Occhiali da sole per edifici a vetri, giardini verticali e lucernai tecnologici capaci di guidare il sole in spazi ciechi, ma anche scooter elettrici ed ecobike. Tutto questo è energetica, la mostra convegno sulle energie rinnovabili per la seconda volta a Torino dal 24 al 26 maggio all'Ingotto Fiere. Io lo chiamerei un laboratorio interattivo, perché i vari soggetti attorno al discorso energetico si trovano. Si trova l'università che crea la tecnologia, che ha per così dire il sogno. Incontra la politica che fa atterrare questo sogno e predispone le leggi, predispone il territorio per far sì che certe cose si possono sviluppare. Incontra l'industria che poi prende questo prototipo, questa idea e lo trasforma in qualcosa di applicabile, qualcosa di ripetibile, qualcosa che funziona. E incontra poi la domanda, quindi il cittadino, il privato, l'industria che ha bisogno di applicazioni, il privato che ha bisogno di prodotti, che è desideroso di investire in questi prodotti. Tema centrale della manifestazione che quest'anno rientra nel Festival Città Visibili, in programma fino al 5 giugno per sostenere la candidatura di Torino a città intelligenti in Europa, è appunto Smart City e Industri. Simbolo ne sono le eco-care esposte sul tetto dell'ingotto. Energetica e la ricerca del campo delle energie rinnovabili, che oggi conta circa 120.000 addetti, risponde anche ai piani della Regione Piemonte, impegnata nella preparazione del nuovo piano energetico per definire le strategie e le politiche necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dall'Europa. Bisogna fare in modo che, soprattutto, si costituisca una filiera di produttori in Piemonte, nel nostro paese, e legati alla nostra terra, perché è vero che c'è stato un boom di impianti, di rinnovabili, però è anche vero che la produzione spesso è in altri paesi, quindi noi dobbiamo cercare di intercettare questa crescita favorendo la costruzione di una filiera di nostri produttori, in modo che il valore aggiunto che viene creato sia più elevato.